E' poco fa a Castelfranco, Emilia, fischio d'inizio per la ventunesima edizione dei mondiali antirazzisti. Nelson Bova. Nel calcio d'inizio alla ventunesima edizione dei mondiali antirazzisti a Bosco Albergati nel Modenese, Ilaria Cucchi, sorella di Stefano Cucchi. La stessa Ilaria riceverà su questi campi il premio Invisibili per aver dato, secondo gli organizzatori, voce ad una vicenda che ancora non ha avuto un esito definitivo dalle aule dei tribunali. Lo sport che diventa occasione per l'integrazione tra i popoli e la riduzione dei conflitti etnici e sociali come per questa squadra di tutte ragazze LGBT, gay, lesbiche e trans che arrivano da tutta Europa e non solo. Integrazione attraverso lo sport anche con i profughi ospitati sul nostro territorio. Questa bellissima esperienza è un modo per questi ragazzi per essere premiati, per fargli dimenticare le torture che hanno subito, i famigliari che hanno lasciato a casa e le loro problematiche legate al lavoro. Noi siamo qui in una vera e propria cittadella dello sport antirazzista e anzi cade in un momento particolare. Esaltiamo molto di più quelli che sono i valori di questa iniziativa in un contesto internazionale dove le scelte spesso e volentieri sono molto più dettate dalle paure. Grazie.